Le salme di Carmen e Antonio domani dovrebbero far rientro a Qualiano, dove probabilmente sarà allestita una camera ardente. I funerali della coppia, morta tragicamente nella piena del torrente Raganello, si dovrebbero svolgere giovedì. L'amministrazione comunale ha annunciato tramite il sindaco di voler proclamare lutto cittadino per quella giornata. Il primo cittadino, Raffaele De Leonardi, sta in contatto con la famiglia per offrire il sostegno necessario al rientro in città e far sentire la vicinanza della comunità qualianise. A breve abbiamo saputo invece che probabilmente già domani mattina le salme saranno liberate, quindi il nostro paese si prepara ad accogliere questi nostri concittadini e a rendere loro il tributo che meritano. La famiglia ci dice che in questo momento la più grande che lei sa è già sostenuta dai psicologi presso l'ospedale di Castrovilla, di dove sono presenti anche le zie e quindi appena ritornerà ci saranno i nonni che per fortuna sono presenti e quindi avranno tutto il supporto di cui hanno bisogno. L'altra bambina invece è stata trasferita in ari soccorso al Giamelli di Roma per tracce di acqua e fango nei polmoni. In questo momento risulta intubata in coma farmacologico. Un pensiero che va soprattutto a lei e sperando almeno che ci diano la buona notizia che esca dal coma e quindi risolva al più presto questo suo problema. Lei ha detto che sarà programmato il lutto cittadino per la giornata dei funerali, però come potrete effettivamente e realmente aiutare questa famiglia distrutta? Il lutto cittadino per quel che può valere vuol dire far sentire la vicinanza della comunità a questa famiglia che in questo momento sta vivendo un dramma sovrumano. Dopodiché si presenteranno tutti i problemi materiali che dovremo affrontare. La famiglia è solida, ci sono i nonni che sono in condizioni di poter assistere ai nipoti, ci sono la zia e un avvocato, l'altra zia e una nota nutrizionista di Qualiano. Famiglia assolutamente in grado di dare il giusto sostegno psicologico. Qualora ce ne fosse bisogno, noi siamo a disposizione sia per quanto riguarda le nostre assistenti sociali, sia per le nostre strutture, ma credo che la famiglia sappia adimbire tutti gli obblighi che purtroppo questa vicenda gli procurerà. Una famiglia per bene conosciuta e stimata in città. Questo è il racconto che ne fa il sindaco di Carmen e Antonio Santo Paolo. Il papà Crescenzo era uno dei muratori più stimati di Qualiano, un imprenditore di Ile, di quelli lì che noi definivamo i Masti. E quindi ha costruito diverse case a Qualiano, persona ben voluta, banalità, tifosissimo del Napoli, cerchiamo di sdrammatizzare. Una famiglia conosciuta, una famiglia stimata, una famiglia voluta bene da Qualiano. Ho appena saputo che anche Antonio era stato promosso, in questo momento era il capo aria sud del Bricomen Gruppo Ocean. La moglie è una docente del Dragonetto. Non lo so, io non ho parole, quindi più che rappresentare come istituzione il popolo di Qualiano, penso che parole non ve ne siano per esprimere tutto il nostro dolore. Grazie. 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 Grazie.